Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV l'informazione locale Picchia la compagna, la figlia di 11 anni arrestato dai carabinieri un romeno per maltrattamenti in famiglia e lesioni, la polizia invece arresta due giovani spacciatori di droga I lampioni posizionati nella ciclabile Stefano Fossoseiore sono pericolosi la denuncia di un cittadino Una palla da bowling per abbattere le differenze premiati 50 ragazzi disabili Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo con la cronaca I carabinieri di Marotta hanno arrestato un romeno di 55 anni che sotto l'effetto dell'alcol aveva procurato delle lesioni alla sua compagna e alla figlia undicenne Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Botte e offese nei confronti della compagna di 43 anni di una bambina undicenne che aveva cercato di frapporsi fra i due A mettere fine a questo ennesimo abuso commesso dentro le mura domestiche sono stati i carabinieri di Marotta comandati dal luogotenente Antonio Barrasso Dopo l'allarme lanciato dalla donna i militari sono intervenuti a metà origlia di Fano La casa da lei indicata era già conosciuta alle forze dell'ordine a causa di vari provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nel corso degli anni Il compagno infatti era già stato arrestato per fatti analoghi nel 2005 ma all'epoca lei aveva deciso di ritirare la querela forse per timore o forse per dare una nuova chance a quell'uomo che era pur sempre il suo punto di riferimento Si tratta di un 55enne romeno che completamente ubriaco alla presenza dei carabinieri ha continuato ad inveire verso la donna con nomignoli osceni e indecenti La compagna invece rifugiatasi in camera da letto è stata ritrovata ancora abbracciata alla figlia mostrando gli evidenti segni delle percosse ricevute Recentemente l'uomo che aveva ancora le chiavi di casa con il consenso della donna era tornato a vivere con lei L'ultima richiesta di aiuto risale ai primi di maggio Mamma e figlia sono state medicate al pronto soccorso di Fano Alla madre è stata diagnosticata una contusione cranica Alla ragazzina una contusione al polso destro Lui è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto nel carcere di Pesaro La polizia invece ha arrestato due giovani pusher che spacciavano droga a Fano nella zona del Lido e di Centinarola Vediamo Operazione antidroga della polizia di Fano coordinata da Stefano Seretti che ha portato a due arresti effettuati in altrettanti distinti interventi Il primo riguarda un tunisino di 32 anni disoccupato e residente in città finito in manette per i reati di spaccio detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale Era lui il terminale della droga nella continuazione delle indagini che da marzo ad aprile avevano portato all'arresto di due nigeriani giunti a Fano in treno con ovuli di eroina nascosti nell'intestino Il tunisino ne era il regista e si occupava quindi dello smercio al dettaglio dell'eroina sulla piazza Fanese Spaventato dall'arresto dei due colleghi aveva trasferito la propria base operativa dalla stazione ferroviaria a un appartamento nel quartiere Centinarola in via Monfalcone dove i clienti potevano acquistare lo stupefacente al primo piano dell'abitazione e trattenersi per consumarlo Gli agenti hanno effettuato un'irruzione in tardanotte quando era rimasto solo in casa ma il 32enne ha tentato di scappare scavalcando un balcone e iniziando a correre lungo la strada Flaminia Raggiunto si è scagliato contro i poliziotti che sono riusciti poi a bloccarlo Sequestrati nell'appartamento circa 170 grammi di eroina un bilancino di precisione materiale per il confezionamento delle dosi e occultati negli slip indossati dall'uomo circa 8 mila euro in contanti ritenuti provento di tre giorni di spaccio considerando che la droga fruttava il pusher 60 o 70 euro al grammo e che riusciva a guadagnare illecitamente fino a 2000 euro al giorno L'uomo tra l'altro era già conosciuto alle forze dell'ordine per reati specifici a suo carico inoltre risulta un arresto per violenza sessuale avvenuto a Padova lo scorso inverno Il nostro lavoro si basa anche su un monitoraggio su delle analisi che noi effettuiamo sul territorio abbiamo visto che c'è stato un aumento sicuramente del consumo da parte di giovani e giovanissimi nel comune proprio di Fano quindi i nostri controlli si concentrano proprio in quelle zone dove sappiamo incontrare giovani, giovanissimi in questo caso il Lido di Fano ma non solo anche la stazione è un altro sito molto sensibile in questo senso e queste operazioni si sono concentrate proprio in queste due località poi dalla stazione siamo risaliti ad un covo proprio vero e proprio situato in periferia dove il principale spacciatore di eroina aveva stabilito la sua base di spaccio e di consumo anche da parte dei tossicodipendenti In manetta è finito anche un ventenne marocchino residente a Saltara per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente notato da una volante al Lido di Fano tra il sottopasso di Viale Cairoli e la passeggiata di Via Cesare Simonetti ha cercato di sbarazzarsi di una busta di cellofan alla vista dei poliziotti ma è stato fermato dopo pochi metri nella busta c'erano circa 90 grammi di hashish mentre nella fessura di un moretto è stato rinvenuto un bilancino di precisione la droga era destinata ai giovani e in particolare ai minorenni I arresti sono stati entrambi convalidati nel primo caso il malvivente lo spacciatore è ancora in carcere in custodia catelare mentre invece il secondo dopo la convalida ha ottenuto gli arresti domiciliari I due dipendenti della ditta Profiglas accusati di estorsione nei confronti dell'azienda sono stati portati ieri davanti al GIP che gli ha concesso gli arresti domiciliari vediamo Mettiamo tutto sul giornale era questa la minaccia nei confronti dei fratelli Giancarlo e Stefano Paci che avrebbero dovuto dargli i 30 mila euro richiesti per il pizzo volevano soldi in cambio del silenzio ed ora sono accusati di estorsione nei confronti della Profiglas azienda di Bellocchi di Fanno leader nel settore della lavorazione dell'alluminio che dà lavoro a circa 600 persone i protagonisti della vicenda sono Mariano Tieri quarantenne sposato con quattro figli incensurato e in mobilità e Antonio Amato di 45 anni due figli anche lui senza precedenti penali e ancora le dipendenze dell'azienda anche se in malattia ritiene di essersi ammalato di tumore in seguito ad un infortunio causato dal malfunzionamento di alcuni muletti e di essere stato spostato varie volte di reparto finché non ha accusato un malore respirando fumi nocivi durante le ore di lavoro dedicate alla pulizia di un canale di un forno fusorio i due operai il 20 aprile scorso avevano scritto ai giornali ed alcune trasmissioni televisive tra cui striscia la notizia lamentando le condizioni e i pericoli che incontravano alla Profiglas in attesa di risposte i giornalisti dei mass media e della carta stampata hanno iniziato tutti i loro accertamenti dai quali si è appreso che secondo i titolari dell'azienda Ottieri e Amato hanno chiesto 10.000 euro il primo e 20.000 il secondo per chiudere il contenzioso d'altra parte secondo i fratelli Paci se si fossero divulgate queste denunce sarebbe andato tutto a discapito dell'azienda per questo motivo è stato fissato un appuntamento svoltosi sabato 9 maggio per la consegna del danaro Ottieri e Amato una volta terminato l'incontro e usciti dalla stanza si sono trovati di fronte i carabinieri ovviamente avvisati dai titolari nella giornata di ieri il PM Giovanni Narbone ne ha convalidato l'arresto ma i due colleghi sono stati concessi gli arresti domiciliari secondo gli avvocati difensori però le loro richieste erano legittime considerate come un accordo per risolvere i danni di salute riscontrati e cambiamo argomento parliamo di maltempo perché sono in arrivo dei temporali la perturbazione di origine atlantica che domani transiterà sulla Francia raggiungerà nella seconda parte della giornata l'Italia dando inizio ad una fase di maltempo sul nostro paese il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso un'allerta meteo che prevede a partire dalla mattinata di domani venti forti e di burrasca sulle marche dopo il recente fatto di cronaca accaduto nel carcere di Fossombrone dove un detenuto ha coltellato un compagno il vice segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Giuseppe Pasquino sottolinea la carenza di organico dell'istituto penitenziario 25 anni fa ricorda era dotato di 200 unità che sono state poi dimezzate negli anni successivi Pasquino inoltre puntualizza il fatto che la casa di reclusione non ha avuto le necessarie innovazioni tecnologiche che avrebbero potuto compensare la carenza di organico per questo chiede all'amministrazione penitenziaria non solo una nuova assegnazione di personale ma anche dei dispositivi che nella struttura garantirebbero un monitoraggio costante e la renderebbero quindi più sicura ancora cambiamo argomento in questi giorni abbiamo parlato dei lavori di installazione dei lampioni dell'illuminazione sulla pista ciclabile Fano Fosso 6 ore secondo il parere di alcuni ciclisti però il loro posizionamento non sarebbe corretto vediamo il perché in questo servizio è evidente la pericolosità dei pali collocati sul lato mare invece che come il buonsenso avrebbe suggerito sul cordolo del lato monte in quanto viene ridotta la larghezza della pista e si aumenta la probabilità di urti fra ciclisti che percorrono i due sensi di marcia questa è la critica di un nostro telespettatore condivisa anche dal signor Ceresani un cittadino appassionato di sport e di viabilità sostenibile premettiamo una cosa ci cade dal cielo per provvidenza una pista ciclabile così attesa da anni tanto di cappello ben venga la pista ciclabile ma i comuni utenti della bicicletta dicono a parità di spesa si potrebbero far meglio i lavori allora prevedendo perlomeno chi va in bicicletta costretto a progettare dice un impiccio come un palo lì dove transito vorrei poterlo non avere no buon senso direbbe questo qui il buon senso chiaramente non c'è stato allora a sto punto chi ha progettato questo dovrebbe dire scusate ho commesso un errore molto tranquillamente per cui digerite così com'è e questa sarà una cosa che si sarà costretti a digerire il dubbio sorgerà quando l'imbranato o il distratto o chi si incrocia inciampa una manopola un freno contro e subisce dei danni a quel punto viene da pensare a chi si rivolge all'ufficio traffico del comune alla provincia al progettista a chi sia perché in previsione qui eventuali cadute sono da mettere in conto a tal proposito ASET SPA che sta eseguendo i lavori ha voluto precisare chi ha provveduto a definire solo il progetto di illuminazione mentre gli aspetti relativi al posizionamento dei pali erano stati definiti dal progetto preesistente approvato e realizzato dalla provincia di Pesero e Urbino per migliorare la sicurezza degli utenti inoltre sono già state posizionate delle segnalazioni catarifrangenti e sempre sull'argomento il Movimento 5 Stelle di Fano ha presentato un'interrogazione per chiedere al sindaco serie alla giunta che cosa prevedeva il progetto originario se è possibile modificarlo anche in fase di esecuzione dei lavori e se sono state richieste eventuali autorizzazioni alle ferrovie dello Stato per posizionare i nuovi lampioni aderenti alla recinzione in cemento che delimita il sedime ferroviario e ci sono delle novità in ambito di informazione l'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali presenta un nuovo progetto editoriale si tratta di Grandangolo una rivista online mensile che vuole raccontare la società di oggi un titolo non casuale come sottolinea il direttore dell'ufficio Enrica Papetti la filosofia del progetto è quella di far rientrare nel panorama del nostro sguardo tutto ciò che normalmente ci sfugge il notiziario di approfondimento vuole quindi offrire degli interrogativi sui quali riflettere e confrontarsi Grandangolo è visionabile sul sito www.fanodiocesi.it sabato 16 maggio sarà possibile visitare l'asilo nido Federici in Viale Gramsci a Fossombroni si svolgerà infatti un open day dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e quindi tutti coloro che sono interessati potranno andare a dargli un'occhiata un incontro tra amici parliamo e continuiamo a parlare di sport accomuniateli dalla passione appunto per lo sport quella che è avvenuta oggi al centro Itaca tra ragazzi disabili ospiti della struttura e giocatori dell'Alma Juventus Fano guidati da Capitan Alex Nodari 10 calciatori Granata hanno fatto visita agli utenti del centro di strada San Michele per far loro un imbocca al lupo in vista delle gare equestri che i 14 fantini accompagnati da 5 operatori disputeranno nei prossimi giorni a Varese per le Special Olympics tra loro anche il 37enne Andrea Ministro che a luglio sarà a Los Angeles insieme alla Nazionale per disputare i campionati mondiali ed ora ancora sport una bella pagina di sport per uno sport antenativo parliamo di bullying una pala da bullying per abbattere le differenze e 50 disabili mentali hanno partecipato a un torneo di bullying organizzato dal comitato UISP di Pesaro e Urbino vediamo Anna Maria ti sei divertita? tanto 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 non manca manca aspettavo che io vingevo questo bello premio ecco ne hai ricevuti due di premi no uno per mio franzino uno per mio giangallo e quell'altra una statuetta una statuetta grande entusiasmo per il torneo di bullying iniziato nel mese di novembre scorso e a cui hanno partecipato circa 50 disabili mentali accompagnati nelle varie giornate dagli operatori di organizzazioni sia pubbliche che private uno sport questo che può essere praticato da tutti e che apporta importanti benefici alle persone colpite da questo tipo di handicap è uno sport che si presta molto alla disabilità fisica e mentale anche perché si tratta di tirare una palla contro dei birilli distanti che può sembrare una banalità però stimola molto la coordinazione oculo-manuale per esempio infatti giochiamo senza sponde perché con le sponde è facile si tira va giù senza sponde viene stimolata questa parte del corpo e la Wisp ci occupa di queste cose d'altra parte ci chiamiamo sport per tutti per tutti non vuol dire per tutti quelli che se lo possono permettere per tutti i maschi e per tutte le femmine per tutti vuol dire per tutti nei giorni scorsi poi si è svolta la finale del torneo e le premiazioni dei ragazzi e delle ragazze che hanno ottenuto i punti maggiori anche se noi come Wisp facciamo fatica a organizzare sempre una una classifica agonistica diciamo che ci piace più considerare il livello di partecipazione il numero delle partecipazioni e anche il livello di entusiasmo che abbiamo registrato in questi mesi di ciascuno che si prende quel topò di birillone la Wisp promotrice dell'iniziativa ha coinvolto così diverse associazioni del territorio come la cooperativa labirinto casagione la T41B il centro socio educativo riabilitativo di urno Movimenti cap e quello di Villa Vittoria ma anche il centro di urno disabili Pegaso Vinicio tu invece come ti sei trovato bene benissimo ti sei divertito sì molto hai fatto qualche strike è vero ecco hai buttato giù tanti di birillo tutte Massimo ti vediamo già con lo zainetto in spalla io sono stato bene mi sono divertito e ho giocato bene faccelo vedere che già lei l'ha indossato questo è il tuo premio sì io canto anche e c'è la regala una canzone ci fai sentire qualcosa bianca passava e la notte passiva alle luci dell'alba che ci ritornava ad andare a dormire svegliarsi verso le tre dai no tocca a te Massimo bianca di notte sono molto contenta che sono venuta qui a giocare ma io l'ho fatto per la mia mamma che non c'è più grazie è bene che dire sport e solidarietà sicuramente un binomio vincente e anche emozionale grazie per essere stati con noi e aver seguito la nostra informazione che tornerà domani sera se vorrete qui puntualmente alle 20 e 30 grazie e buon proseguimento di serata